Finale di Pietro, eccolo qui, collegato con noi. Insomma, abbiamo di che parlare anche oggi. Cambiano i nomi, cambiano anche i luoghi, ma la storia è sempre la stessa. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Mi dispiace far rivedere ancora la mia faccia, ma... Ma no, noi siamo contenti. Invertendo l'ordine degli addenti, la somma non cambia. Se non si interviene come si deve, possono passare 20 anni, ma la storia di Tangendopoli si ripete. Poi, per l'amore di Dio, una mani pulita ogni tanto fa scoprire il tumore. Ma se il tumore non viene cancellato alla base, ce lo ritroviamo periodicamente. È veramente con grande amarezza che assista a quel che è successo oggi al Mose, l'altro giorno a Expo, e mi sembra di rivivere esattamente ciò che avvenne tanti anni fa. Concussione, corruzione, riciclaggio, ma soprattutto il sistema coinvolto, il sistema delle imprese, il sistema dei partiti, perché poi questo si dice che deve servire anche a finanziarli, ma attenzione, non esiste il partito di destra, di centro, di sinistra, con il riferimento alle corruzioni. Così come vede, con il riferimento, sono tutti uguali. E poi anche il sistema delle istituzioni, con l'aggiunto del sistema anche dei mazzettari, cioè quelli che facevano i portaborsa da una parte all'altra, passando per San Marino e andando all'estero. Ma insomma, io ho scritto la storia di Mani Pulite e mi ritrovo che adesso, che è uguale a prima, mi torna un'amarezza da una parte e dall'altra una tanta voglia di ricominciare, ma ditemelo davvero, per evitare che i cittadini prima o poi prendano i forconi, bisogna davvero ritornare le manette, come avevo fatto io una volta. Ecco, il problema di Pietro è davvero come si fa ad estirpare questo cancro, perché come dicevamo non è un fatto isolato. Proprio nella storia delle grandi opere italiane, le più importanti, c'è sempre questo cancro della corruzione all'interno. Dunque, da dove bisogna partire? Non c'è una legge? Ci sono leggi sbagliate? Cosa manca? Magari fossero solo sbagliate. Ci sono leggi fatte apposta per corrompere e rimanere impuniti, come sta succedendo nella maggior parte dei casi. Ma cosa fare? Lo sappiamo e lo sanno benissimo. Il problema è che non puoi dare la risoluzione del problema a chi è un problema. Non puoi... Lei mi sta dicendo che in Parlamento adesso hanno chiesto l'autorizzazione a procedere all'arresto del calano. Io non lo so se è colpevole o meno. So però che l'inchiesta va avanti da tre anni ed era già stata inquisita la sua segretaria per aver portato, aver fatto da tramite questi soldi all'estero. Allora, prima si va dal giudice e poi ci si candida. La prima regola da stabilire è che se è vero come vero che si è innocenti fino a prova contraria è anche vero, e lo dice l'articolo 97 della Costituzione, che quando ci si candida una carica o un incarico pubblico si deve essere al di sopra di ogni sospetto. Quindi si ha a che fare con la giustizia. Prima si va alla giustizia e prima si si candida. Già Stefano Frigerio, che era stato condannato nell'inchiesta Mani Pulite, è stato ricandidato in Puglia dal centrodestra e da Berlusconi. I greganti che è stato condannato nella storia di Mani Pulite ce lo siamo ritrovati in prima fila nelle manifestazioni del PD. Allora, se voi legittimate, voi non mi riferisco a lei ovviamente, se il sistema legittima che chi è più furbo, più forte, più spregiudicato siamo appunto da capo. Ma cosa fare? Lo ripeto, lo si sa benissimo cosa fare. Bisogna fare in modo che sia conveniente essere onesti e sia conveniente essere anche onesti come imprenditore. Se invece si sceglie che il più forte, il più spregiudicato frega l'altro, per esempio il reato di concussione per induzione è stato eliminato, per esempio il reato di farsi in bilancio è stato eliminato, per esempio il reato di autoriciclaggio non ancora è stato risolto. Cioè praticamente andiamo controcorrente. Il problema qual è? La paura che prima o poi tocchi a qualche compagno di banco? Le faccio un esempio. Tutti hanno detto a me quanto è stato bravo di Pietra da Piembo quando ha fatto l'inchiesta a Enimont. Io quell'inchiesta la vivo come una sconfitta perché non avevo gli strumenti. Le faccio un esempio. Ho scoperto a suo tempo che Gardini fece 150 miliardi di lire di lire all'epoca di tangenti. Ho scoperto chi aveva preso questi tangenti tra pubblici amministratori e politici per 75 miliardi ancora adesso sto aspettando quel benedetto Ior, Papa Francesco. Ci vuoi far sapere gli altri 75 miliardi che sono passati attraverso lo Ior dove sono andati a finire o no? Se noi non abbiamo un po' di collaborazione se noi stabiliamo a livello europeo che ci vuole la lotta alla corruzione ma abbiamo paesi paradisi fiscali come Vaduzzi, gli Ectestein che hanno una legislazione speciale per il riciclaggio è chiaro che siamo in piena ipocrisia quindi cosa fare? Lo sappiamo bene è proprio per questa ragione che coloro che fanno qualcosa vengono isolati, ghettizzati e trattati mali perché non si vuole il medico si vuole convivere col tumore anzi in questa società chi ha più successo e chi fa parte del tumore? Tra l'altro notizia di pochi istanti fa di Pietro è che il presidente del Consiglio Mattavorenzi ha incontrato il commissario Cantone evidentemente dovranno fare il punto anche per quei famosi poteri che Cantone ha richiesto si ricorda le sue parole quando ha detto relativamente all'inchiesta sull'Expo di Milano non vado a fare la gita a Milano lui chiedeva dei poteri in quel caso però parlavamo dell'Expo in ogni caso è a capo di un team che si deve occupare di anticorruzione e che quindi deve risolvere anche evidentemente problemi in altri posti del paese ci crede in Cantone? Usciamo dall'ipocrisia innanzitutto un caro saluto a un collega che apprezzo, stimo e ammiro ci azzecca niente Cantone il problema è un altro quando si va in guerra bisogna munirgli di strumenti se tu metti una bella faccia un bel combattente ma non gli dai gli strumenti caro Renzi è inutile che tu fai il giorno dopo e ogni giorno dopo di una retata fai la riunione e moccocantone, moccocantino che apprezzo devi fare urgentemente un decreto legge che prevede alcuni istituti che da una vita che ve lo stiamo chiedendo prima ripeto l'istituto di non riciclaggio secondo la non candidabilità di persone che hanno problemi con la giustizia fino a quando non risolvono i problemi con la giustizia terzo gli imprenditori che sono stati già condannati e hanno avuto a che fare con la giustizia Renzi non possono concorrere né indirettamente né indirettamente con le gare della pubblica amministrazione Renzi cosa fare? lo sappiamo non mettere le belle statuine semplicemente per far vedere che hai fatto qualcosa hai fatti tanti decreti legge che servivano a niente ho letto proprio un minuto fa che l'avete detto voi ieri ha detto che un certo beneficio si allungava anche alle famiglie a chi è oggi detto l'anno prossimo io voglio un presidente del consiglio che vorrei tanto che facesse quel che dice e quindi caro Matteo ti aspetto aspetto che un giorno fai la conferenza in cui dice ieri ho fatto questa idea che faremo e voglio dire è un'idea del vorrei ma non posso di cui la prima volta va bene la seconda no a proposito del faremo e poi la saluto di Pietro c'è anche a proposito di opere questo provvedimento sblocca Italia così l'ha battezzato Renzi proprio per sbloccare quelle opere ferme da anni in Italia non sono poche allora che facciamo siamo con le dita incrociate non bisogna buttare il bambino con l'acqua sporca le opere vanno fatte il problema è che molto spesso hanno fatto delle opere con degli appalti a base d'asta come è successo anche per Expo o altre vicende a 10 euro per poi a liquidazione se ne sono andati 1500 euro io dico pochi 10 euro per dire miliardi di euro milioni di euro per dire che cosa per dire che dobbiamo far ripartire la macchina degli appalti perché è importante dobbiamo evitare di far partire delle macchine senza avere i soldi a monte e per avere i soldi a monte bisogna far pagare le tasse a tutti e quindi io mi aspetto che non che ogni tanto si faccia il solito condono indulto e quant'altro ma se vuoi fare la prima opera fai qualche carcere in più non mettili fuori ogni tanto perché c'è troppo poco posto grazie Antonio Di Pietro per essere stato con noi grazie a tutti